Ma rivalutiamole le maniglie dell'amore, ma è anche nell'uomo, guarda qua, mi piace il maniglione antipanico dell'amore, il corrimano dell'amore, va che spettacolo, va che spettacolo, questa coscia, si vede questa coscia, è illuminata questa coscia, questa coscia è ancora originale, non me la sono mai fatta l'iposucchiare, mai, io non mi sono mai rifatta niente, al massimo mi sono rifatta qualcuno. Invece tutti adesso che si fanno la plastica, plastica di su, plastica di giù, plastica di qua, plastica, plastica, ma che mondo volete lasciare i vostri figli? Non sapete che la plastica inquina? Te ridi, ma te se seppellisci una busta della Coppa o Alba Parietti, quella si squaglia prima. C'è lei, bisogna andare fieri delle proprie forme, bisogna saper portare in giro con fierezza anche il proprio nasino alla francese, guarda qua, non è alla francese, è mezza baguette, bravo, scherzi. Ma non è quello, non è un naso, un fianco, non è quello, quando c'è il carisma, quando uno è cinghialato, va, vero te? E' una cosa che, te quando arrivi uno sento odore da lontano, capito? Figurati se, vai, anch'io, io intorto col mio carrello, dammi un carrello, io vado anche al supermercato col carrello della spesa, mi dai il carrello della spesa e io vado a intortare. Al supermercato, io vado proprio a cucare, a trovare l'uomo e... Perché quando arrivi sui 40 anni, non parlo per me, parlo così in generale, no? Te, solo perché sei la moglie del cinghiale? Non è che ti nascondi nella foresta, hai capito? Quando arrivi, viene un momento nella vita, no? Che trovare l'uomo fai un po' più fatica, credimi. E perché cosa vuoi? L'ho sposato, ho sposato, non si è mai detto che vai a rovinare, avere una famiglia. E il single non gli dovesse mai saltare in testa di sposarsi, capito? Cosa vuoi? Il vecchio è vecchio, tutta carne morta. Il giovane è giovane, non c'è esperienza, non trovo la strada subito. Guarda, veramente, l'unica vera razza da predare oggi è il divorziato. Che ce n'è un casino in giro! Allora, quando lascia la moglie, via, gli torna un'energia, una voglia di farci. Insomma, il problema è che te non li riconosci perché non ce l'hanno scritto in fondo. Magari, siamo ancora indietro da questo punto di vista. Allora, te dove li trovi? Li trovi al supermercato, non che li vendano, no. Al supermercato, facci caso che il divorziato lo individui, lo individui. Perché facci caso, il divorziato è l'unico che si fa incantonare dalle signorine delle promozioni. Ce l'hai presente? Quelle fighine, biondine, magrine, che sono lì che ti vogliono vendere le amatorelle, le spinacelle, le prosciutelle, quelle polpette di carne presciata. Che le comprerebbe anche lo sposato, ma solo una volta, perché poi la moglie gli le tira in fronte, vedrai che... Ah, nella vita bisogna far così, capire le categorie e predare. Noi in famiglia, signorine, siamo rimaste in due. Io, la Wanda, che vado a intortare i divorziati al supermercato, e mia zia, Veranda, che va a intortare i vedevi al cimitero. Ah, voilà. Allora, poi beh, mi piacciono le comodità. Io quando arrivo al supermercato, voglio le mie cose comode, mi chiedo di star lì a cercarti il carrello, una fatica. Io dico, io me lo sono comprato, con un euro te lo porti a casa? Anche sta cosa che arrivi alla cassa, il sabato mattino fa la... Io alla cassa non ci arrivo neanche. Quando c'è un po' di ressa, io tiro fuori il mio megafono portatile da manifestazione, poi faccio comunicazione di servizio, comunicazione di servizio, apre la cassa numero 15, e via tutti che passano, carta numero uno, numero due, le casse sono cinque, ma loro corrono? Io passo tranquilla, capite, cosa vuoi? L'acqua è stata, la settimana scorsa, guarda, ho trovato uno, guarda, una meraviglia. Perché io poi quando vedo un divorziatino che si aggira libero nel supermercato, io lo seguo col carrello delle spese. Quando lui si infila in una corsia desertica, disabitata, che so, tipo solette lacci da scarpe, no? Io prendo la mira, PUM, glielo tiro qui nelle regni, lui scaramuzza l'interno, faccio, mi scusi, mi è scappato il carrello. Poi faccio anche uno, questo qua che ho conosciuto, guarda, una meraviglia, carino, 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 carino ma un po' lesso, sì, carino ma c'aveva ancora il segno della fede, guarda, faccio la tenerezza, carino ma un po' lesso, carino ma... Acquario e ascendente pesci, mancava la maionese, poi era a posto, guarda. Questa qua di mestiere mi dice che lui faceva il broker, ma cos'è, sembra una razza di un cagnolino, il mio il broker, il suo, uno spinacker, c'è anche il pedigree. Invece il broker, io non lo so, sono questi ultimi lavori di questi ultimi decenni, che lui pensa, lui di lavoro deve perdere i soldi suoi e degli altri, investendo in titoli, obbligazioni, che era un lavoro anche nervoso, infatti lo vedeva agitato. Allora io per tranquillizzarlo mi sono messa a chiacchierare con lui, passeggiavamo con i nostri due bei carrelli appaiati, lui mi ha raccontato il suo lavoro, le obbligazioni, i titoli, e internet, e il computer, e byte, e megabyte, e la grande rete, mi aveva insurlito. Quando abbiamo svoltato nella corsia con il suo scritto limoni in rete, non sapevo più se era verdura o una slenguazzata via internet. Cioè tu ascolta, gigabyte, se ti sbrighi ad andare a pagare la cassa, andiamo a casa tua e ti cucino io per beneno. Una serata indimenticabile. All'inizio il poverino era anche partito bene, credimi, ma poi a notte fonda non si alzava ogni mezz'ora per andare a guardare la quotazione di titoli su televideo. Alle tre non ci ho visto più. Mi sono alzata, mi sono messa un po' di tre quarti come la Lily Gruber, e ci ho fatto il quadro di Piazza Fari, ci ho detto grande entusiasmo all'inizio di seduta. Il titolo, in apertura, ha subito una brusca impennata, ma già alle prime operazioni ha cominciato a perdere di volume, nonostante i ripetuti passaggi di mano degli azionisti. Il titolo si è via e via sgonfiato fino a riportarsi sulle quotazioni di partenza. C'è stato, è vero, un leggero rialzo in finale di seduta, quello che tecnicamente gli ai proteri chiamano rimbalzo. Ma poi è morta lì. Lo vuoi spegne sto televisore? Sì o no? Non ha fatto bau. Mi è venuto dietro come un cagnino, broker proprio! Sì... Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Grazie a tutti